Sono andato a controllare i terreni incolti nel circondario di casa, perché qualcuno dice che le mie sono braccia vigorose rubate all'agricoltura, terreno incolto, guarda sto valutando l'idea di darmi all'agricoltura, anche perché molti non hanno compreso che per quanto mi riguarda non cambia niente, quello che facevamo continueremo a fare. Perché Antonio hai chiesto la cancellazione? Quello che hai detto finora non è abbastanza, dice qualcuno. Ognuno ha il diritto, perché tu hai voluto far diventare di dominio pubblico questa cosa e quindi bisogna dare le spiegazioni. Ho dato una parte delle spiegazioni dicendo che ce ne sono tantissimi altri motivi, anche perché altrimenti uno mica esce pazzo, avvassuto pazzo lo cond, no, lo cond è già pazzo. detto questo, parliamo di una faccenda importantissima che è quella del sentirsi rappresentato, la rappresentanza della categoria. Tino, non provocarmi con situazioni, ti prego, perché io voglio essere invece centrato, quadrato, quadrato, ok? Ho capito, tondo. Diciamo. Hai sentito quel che mi ha detto? Metti raggiù i sei. Ah, mattina. Qual è il motto? No, cogli l'occasione. Qual è il motto? Il ciccione dimagrisce, il tribone per sempre. Ricordatevelo perché è fondamentale. Detto questo, la rappresentanza. E qui torno a un tema che è ancora di grandissima attualità, codice interno. Codice interno è quell'operazione che a febbraio ha scoperchiato il vaso di Pandora, quello che tutti quanti a Bari sanno dalla notte dei tempi, che c'è una commistione fra la politica, certi pezzi della politica ovviamente, non generalizziamo. La malavita, ma non soltanto quel tipo di malavita, perché per malavita bisogna intendere anche quella dei colletti bianchi che piazzano i propri parenti e amici all'interno di strutture pubbliche, di enti pubblici. Avvagonate. Avvagonate. Temi di cui si parla sempre molto poco, perché poi alla fine sei tu stesso giornalista che vai a finire da fare il giornalista sottopagato da qualche parte e ti ritrovi magari anche senza concorso, e qui parlo in generale, a fare il portavoce, il portaborse, l'ufficio stampa di quest'ente, di quest'altro ente, ed è una cosa che... Portobello, la tua età ti rende capace di citazioni particolari. E codice interno, bene, quell'operazione passerà alla storia, perché per la prima volta ha tirato fuori questo tema qui e io l'ho vissuto personalmente, essendo, come ho detto in altri video precedenti, il direttore del Quotidiano italiano quando il suo editore era Giacomo Olivieri, una delle figure più controverse ancora in carcere, a novembre, l'8 novembre se non erro, si continuerà a dibattere. Ma dico, ho avuto modo di parlare con il Presidente dell'Ordine, perché altrimenti questa cosa non ve la direi, nella telefonata che mi ha fatto la mattina della riunione del Consiglio, perché dovevano ratificare la mia richiesta. Ha tentato vagamente di convincermi, non a dissuadere dal mio intento, ma di farmi capire come fosse uno simoro, cioè tu fai il giornalista e ti cancelli e quelli che non fanno i giornalisti restano giornalisti. Ebbene, questo era il mio intento, la mia provocazione e quindi la rappresentanza. Io adesso vi dico un aneddoto che ho raccontato fuori dai microfoni a tanti, di quella mattina. La mattina che Giacomo Olivieri veniva arrestato insieme agli altri 130, io ero, lo so, l'immagine è veramente molto brutta, io ero in mutande, in maglietta a casa, intorno a un orario, molto presto la mattina, in cui qualcuno mi chiamava dicendo che su stonna per te, c'era proprio, andò, 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 su stonna per te, su stonna per te, tant'è che all'inizio non capivo, ero un po' frastornato, mi avevano buttato dal letto. A quel punto, sapendo che la legge italiana è intanto io ti metto in mezzo, poi sei tu che devi trovare la modalità per far te, bravissimo Tino, ero, lo devo dire, ero preoccupato, perché per anni evidentemente sono stato anch'io intercettato e quindi si è sentita una parte di quei fatti. Bene, la procura scrive, ve l'ho già detto, che io ero completamente assoggettato alle richieste di Olivieri, strategia vi ho spiegato per poi arrivare a quello che abbiamo fatto, ovvero la vendita del giornale. Lasciamo perdere questo caso perché poi torneremo ad occuparci di questa vicenda perché c'è l'altro capitolo che in parte abbiamo anche trattato. E ero preoccupato perché tante volte ho detto delle cose e ho fatto delle cose e dunque io mi aspettavo di essere, se non altro, indagato, di essere stato indagato o addirittura, Tino, al gabione. E invece? E invece no, perché nei momenti di lucidità quando ho avuto le carte, le vedevo, le passavo, come fanno le maestre, facevano le maestre dei tempi quando scorrevano, arrivavano la zeta e dicevano alberga, per farti avere la strigna. Bene, ho letto su un nostro giornale concorrente, tra l'altro sicuramente è scritto da un collega che voglia essere benedetti. Lui, il giornale per cui scrive e tutta la sua settima generazione, io immagino l'orgoglio e come il contento di scrivere quelle cose là, scriveva che il Presidente dell'Ordine, senza che a me avesse detto assolutamente niente, proponeva già subito di farmi un esposto per adempiere tutto ciò che va fatto per il Consiglio di Disciplina perché io, tra le altre cose, oltre ad essere assoggettato completamente, avrei lavorato durante un periodo di sospensione di due mesi dall'Ordine. Ah bene, dai Tino, dai, per piacere, se no poi qualcuno scriverà, no, lo è scemo davvero, non serve esserlo, è proprio. Tino, il gallo ha cantato tre volte e tu mi stai tradendo. Io non lo so perché abbiamo sempre queste citazioni bibliche, ma l'hai sentito il gallo, ha cantato tre volte e tu mi stai tradendo. No, 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 io sono su tre volte mi hai tradito, eri distratto e non ci hai fatto caso. Ora, dice perché? Continuo a cantare, eh, quindi proprio ti sta sottolineando, qua anzi in va, Tino, eh, lo voglio, lo voglio dire, sta cantando, ma i galli non cantavano alle 5 quando venivano arrestate le persone, no, ma come fanno a cantare ormai i galli? I galli non cantano più come una volta. Ancora, eh, l'abbiamo capito, che il tiro non va. Eh sì, è quello che vuole dire. Va bene. Ora, io mi aspettavo una telefonata, visto che comunque mi è stato, da qualcuno, mi è stato dipinto come un atto dovuto, nel senso non si conoscevano gli esiti di questo eventuale procedimento disciplinare, mi sarei aspettato una telefonata, non dico per dirmi Antonio, ma come hai fatto a rimanere strano a questa cosa, nonostante dentro ci siano finiti praticamente cani e porci? E sappiamo come tu sei un cane. Ci saresti dovuto finire anche tu, però è un atto dovuto, devo farti un esposto per, e io avrei detto, giusto, giustissimo. Buonissimo. Tant'è che il procrastinare questa cosa era anche per poter dimostrare la mia estranetà, quella accusa, infamante, ma poi alla fine non ce l'ho fatta più, perché volevo dimostrare come non ci fossero mai stati accessi con il mio nome nel nostro sistema informatico, tali da poter dire che io avessi lavorato. Certo, c'erano i consigli che continuamente davo ai miei collaboratori, perché il lavoro si configura nel momento in cui io appaio in onda o evidentemente ci metto la firma, evidentemente do la mia collaborazione fisica al giornale, ma non poter dare, cioè essere chiusi in una cella di isolamento e non dare magari consigli ai colleghi durante un periodo di sospensione, per carità di Dio. Agli arresti domiciliari. Ma proprio, ma di più, oggi agli arresti domiciliari la gente fa i TikTok, ve lo faremo vedere, fa i TikTok, fa le televendite, fa qualsiasi cosa, io non posso dare a un collega un'indicazione su come dover scrivere, un contributo su come dover scrivere. Dunque, questo è solo un caso, dica. Ma lei comunque nell'elenco dei 130, non ci sono, certo. E quindi? No, ma quelli erano alla fine. Se non erano stati cani e porci, evidentemente qualche cane è rimasto fuori. No, ma ti dico, da un lato l'orgoglio, dall'altro l'apprendere su un giornale di un procedimento disciplinare chiesto in anticipo senza aver avuto, tra l'altro, un'indicazione, perché questo non è l'esposto che fa un comune cittadino, questa è una dichiarazione che fa il Presidente dell'Ordine e quindi mi sarei aspettato un coinvolgimento. Ma questa è la punta dell'iceberg, perché potrei raccontarvi una serie di episodi in cui non mi sono sentito rappresentato dalla categoria. Dunque, lancio di bottiglie, offese, schiaffi, anche delle dichiarazioni fuori luogo da parte di alcuni politici, querele temerarie, ma veramente potrei continuare, in questi anni veramente ce ne sono capitate di ogni. Quindi da un lato questa situazione, dall'altro posso evidentemente ammettere la nostra colpa non essere un giornale seguito e tra quei milioni di spettatori evidentemente non avere nessuno tra quelli della categoria che invece potessero in qualche maniera alzare un dito e dire una volta ogni tanto, eh, chi del poverino, chi del quattro scappate del casco, piace? Dai, diamogli un supporto, una dichiarazione, ma pur una cosa scritta tanto per, capito? Un coccodrino così, ma se, due lacrime di coccodrino, un latte versato, una cosa qualunque. Invece no, neanche quello, mai, 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 mai. Oh Presidente! No, 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 lascia perdere il Presidente, il Presidente è il massimo rappresentante, ma ce ne sono tanti, ci sono consiglieri, tesoriei, c'è qualcuno che può alzare il dito e dire, eh, dai. Ho capito, dai, ma smettere, ma smettere, professionalmente, eh, l'ho visto crescere. Però gli altri non li voglio neanche considerare. Quindi, questa è veramente la punta dell'iceberg rispetto a una serie di trascuratezze nei nostri confronti e voglio immaginare nei confronti di altri colleghi, sono rimasti in pochi, eh, a vivere quelli che vivono per strada e fanno il nostro stesso mestiere. E quindi questo, non lo so, Tino, quanti sono. Dunque, questa della mancata rappresentanza, della mancata tutela in questo senso, è uno degli altri motivi che mi ha costretto, devo dire, costretto, a chiedere la cancellazione dall'ordine dei giornalisti. Ma adesso ve lo annuncio, perché il prossimo capitolo sarà quello relativo ai procedimenti disciplinari, e vi annuncio dove tutto mi ha detto, prima di andare a mangiare a 1,50 euro la mensa della RAI, mentre tu con 1,50 euro, mentre stai in Magnus Tezofacaz per comprare. Vabbè, ma questo è un altro discorso, oppure lo faremo, ma affronteremo il capitolo dei procedimenti disciplinari, attenzione, non sto dicendo che non avrei dovuto averne, sto dicendo che bisognerebbe trattare tutti nella stessa maniera, e poi vi racconterò quello da cui tutto è partito, in cui la discussione di 3-4 anni fa poi è diventata una discussione molto concreta, ovvero Mauro e il Caciocavallo. Ragazzi, qualcuno ha cominciato a dire qualcosa, ma partiremo da Mauro e dal Caciocavallo. La testata d'angolo, direbbe. Brava, la pietra miliare. Ugallo non canta più, però, il gallo non sta cantando più. Davo l'orario che è le 11, ma è l'orologio, non è un ugallo. Per ora è solo per un pendolo, per ora è solo per ora, carotino, ti stai sbizzarrendo, è quasi tutto. Mauro e il Caciocavallo, gli smonti, è vero, è così, sono sparito, sono sparito col mio Caciocavallo impiccato, manco fosse la corsia di un ospedale.